Ho accolto con grande piacere questa possibilità che mi è stata data. È un partito giovane, però c'è una grande passione e la mia mission principale è quella di far valere tutti i valori di questa città. Io che ho operato nel settore artistico per tanti anni, organizzando eventi, avendo avuto il piacere di conoscere tanti artisti di cui il nostro territorio nutre una grandissima risorsa che abbiamo, valorizzare questo è una cosa fondamentale. Oggi chi viene a Napoli, il turista che viene, l'avventore, non sa dove andare ad ascoltare musica napoletana o non abbiamo dei posti o pifici dove si sviluppa questo progetto. E questa è la mia prima mission, parlando con lettieri, di ripartitorizzare la musica napoletana, la canzone napoletana e dando la possibilità di creare dei posti dove tutto questo può essere visibile agli occhi di tutti, sia stranieri che turisti italiani che vengono in questa bellissima città. Grazie a tutti.